Appare sul sito del Comune Nisseno un invito al Sì in merito alla donazione degli organi e tessuti post-mortem, accompagnato da una foto del primo cittadino e dagli hashtag Città del Sì, scegli di donare un Sì in Comune. In occasione infatti della Giornata Nazionale per la Donazione di Organi e Tessuti, il 24 aprile anche Caltanissetta accoglie l'appello di Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, e aderisce al progetto Una Scelta in Comune, del Centro Regionale Trappianti Arnas Civico di Palermo. Grazie al coinvolgimento anche dell'assessore alle politiche sociali Cettina Andaloro, il Comune Nisseno ricorda che è possibile dichiarare la propria volontà al momento del rilascio o rinnovo della carta d'identità. La possibilità di scelta è quello che rende la città uno spazio di opportunità per i suoi cittadini, si legge nell'avviso. Le scelte che riflettono il senso civico a volte sono scelte naturali e comportano azioni semplici, come quella di dire il proprio sì alla donazione di organi e tessuti, si precisa ancora, indicando anche tutti i riferimenti social del Centro Nazionale Trappianti per ulteriori informazioni.